Lo sversamento dei fanghi di dragaggio del porto di Ortona non ci sarà, tirano un sospiro di sollievo comuni a MP Torre del Cerrano e ambientalisti dopo la riunione di ieri nella sede della provincia di Teramo in cui è stato deciso lo stop al progetto di sversamento in un'area adiacente, quella protetta della Torre del Cerrano. I 200.000 metri cubi di sabbie dragate dallo scalo di Ortona forse saranno smaltite a terra, forse perché nella questione si è inserito il comune di Francavilla con il sindaco Antonio Luciani che ha chiesto che quelle sabbie vengano utilizzate per il ripascimento dell'arenile di Francavilla, dando così un aiuto concreto ai bagnatori alle prese con l'erosione che assieme alla spiaggia sta mangiando anche le loro attività turistiche. Con la determina regionale numero 40 del 21 di febbraio la regione Abruzzo ha sospeso l'autorizzazione al deposito in mare dei materiali di escavo derivanti dal dragaggio del porto di Ortona, mettendo così una pezza all'autorizzazione allo sversamento che sempre gli uffici regionali avevano concesso in precedenza. Il tavolo ha individuato una serie di soluzioni diverse dall'immersione in mare, sostenibili per l'ambiente più consone alle esigenze anche economiche del territorio abruzzese, che consentano comunque il completamento da parte di Arap della progettazione dell'ampliamento del porto di Ortona, che prevede una spesa complessiva di 40 milioni di euro di fondi derivati dal masterplan. L'area marina protettatore del Cerrano, si legge in una nota dell'ente, concorderà con la presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha convocato per giovedì 1 marzo i vertici della MP e il servizio rifiuti della regione Abruzzo, a proposito dell'opposizione alla conferenza di servizi, la modalità di vigilanza in attesa di un riscontro da parte della regione rispetto al tavolo tecnico. Regione Abruzzo che ora ha a disposizione 90 giorni di tempo per provvedere a tutte le ottemperanze burocratiche che renderanno finalmente possibile abbandonare la soluzione del deposito in mare del materiale. Il prossimo passo, conclude la MP, sarà quello di chiedere definitivamente la revoca del sito come idoneo al deposito in mare di materiale.